sono passati ben due anni da quando ero comi non ci ha fatto sapere nulla di un possibile nuovo album, un nuovo EP o addirittura un possibile nuovo mixtape attraverso singoli o addirittura aggiornamenti tramite i suoi social o addirittura anche attraverso youtube il che ha scosso tantissimi suoi fan e non dato che siamo sempre stati abituati a lui che rilascia ogni anno che passo un nuovo EP, un nuovo album è comunque un progetto in generale però l'anno scorso nel 2020 non si è fatto proprio notare all'interno della scena a parte qualche featuring ma io parlo proprio di un singolo solista fatto da Ercomi perché se voi vi ricordate dopo il penultimo per ora album di Ercomi che noi non sentiamo più parlare di lui lasciandoci con Dove Gli Occhi Non Arrivano un album molto sperimentale per quanto riguarda il rapper in sé con l'aggiunta di nuove metriche, di nuovi suoni attraverso uno tra i suoi nuovi produttori ovvero Charlie Charles, uno tra i produttori più conosciuti all'interno della scenarie epitaliana e non che ha prodotto per tanti artisti, per esempio Sfer e Basta, Gali e tanti altri e anche dal punto di vista di collaborazioni che gli unici che comunque sono stati al fianco di Mirko per tanti tanti anni dall'inizio della sua carriera fino adesso ovvero Sfer e Basta e Gali, sempre in tracce diverse all'interno del disco sono presenti anche molti altri artisti pop per esempio Elisa o addirittura Lorenzo Giovanotti che sono tra le tracce addirittura più ascoltate all'interno del disco per poi addirittura avere tante sue collaborazioni all'interno dell'ultimo album di Night Skinny, ovvero Mattoni Sfortunatamente dopo l'arrivo del Covid ci sono state tantissime difficoltà non solo per lui ma per tanti altri artisti del rap italiano non, ma anche artisti a livello mondiale ne riuscire a portare avanti la loro carriera con nuovi DJ set, nuovi live, nuovi album, nuovi pezzi, nuove collaborazioni eccetera eccetera da indursi anche a chiudersi o in studio o a casa propria per trovare un po' l'ispirazione nello scrivere stessa cosa che tra l'altro fece anche notare Mirko all'interno delle sue stories di Instagram però dopo aver fatto quelle piccole stories ha reso il suo canale non privato ma l'ha cancellato totalmente cosa che tra l'altro aveva fatto ancora prima dell'uscita di Dove Gli Occhi Non Arrivano che aveva riaperto il suo profilo Instagram mostrando il suo freestyle sulla base di Anna The Point Pass The Dust dei Queen Amore, questi anni sono stati un po' di tutti, un po' di tutto è stato come esser baciato prima di essere fottuto e non so darmi delle arie meno che non serva a mettere al proprio posto si raper tra le guie lo facciamo in ascensore su con la vita perché è una e tu la fai sentire stupida c'è qualcosa che non va in me a dirla tutta, meno male almeno va in te musica da una musa toglie o musa da musica toglie metaforizza un po' meno dove gli occhi non arrivano ossigenosi però l'attesa conta tanto quanto l'arrivo però finalmente il king della nuova scena si è risvegliato riprendendo possesso di tutti quanti i suoi social annunciando con questa foto qua però senza alcuna descrizione senza alcuna didascalia senza nessun commento niente di tutto questo ma allo stesso tempo ha deciso di deliziarci con il trailer ufficiale di quello che sarà appunto il suo nuovo disco questo disco che uscirà il 30 aprile e prende il nome di Taxi Driver già nei primi secondi del trailer possiamo ben introdurre a che cosa si riferisca il titolo Taxi Driver si riferisce a niente poco di meno che il film stesso Taxi Driver non è altro che il cult di Robert De Niro anche la copertina di questo disco se così possiamo dire è presa d'ispirazione alla copertina originale del film nonostante non sia stata proprio una cosa tanto difficile da riconoscere all'interno sia dell'album e sia di questo trailer dato che si vede appunto una scena di questo trailer dove c'è appunto Erkomi seduto che guarda appunto una tra le tante scene presenti all'interno del film stesso una grandissima particolarità del trailer è anche il fatto che EF genera un'atmosfera che non si è mai vista assolutamente all'interno di un qualsiasi trailer o qualsiasi video di Erkomi come per dare l'impressione che su lui sia veramente un personaggio all'interno del film perciò non posso fare altro che dare i miei complimenti sia ad Erkomi al regista e all'editor di tutto quanto il trailer e ciò probabilmente farà capire che questo qua non sarà assolutamente un disco simile a tutto quello che lui ha fatto in passato ma un disco sicuramente più cupo ma a sostanza un po' più aperto rispetto a quello che Erkomi è solito fare o quello che lui era solito fare tra l'altro abbiamo anche la tracklist bella pronta quindi posso fare altro che aspettarmi il meglio da questo ragazzo è innegabile poi il fatto che questo disco sarà pieno di storytelling e ciò lo potrebbe dimostrare non soltanto il trailer tutto quanto l'andamento del trailer e di come ovviamente è andato a finire ma da una semplice frase che tra l'altro è stata detta a Seder Erkomi stesso all'interno delle stories ma anche nelle varie pagine di Rolling Stone Taxi Driver un viaggio verso il rap voi invece cosa ne pensate di questo trailer? secondo voi invece come sarà il disco finale? come sarà il risultato finale? scrivetemelo sotto nei commenti lasciate like iscrivetevi attivate la campanella per rimanere sempre attivi sulle nuove attività del canale e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao